Quando con Antonella ci siamo sentiti, lei me l'aveva mandato tempo fa, devo dire la verità mi è piaciuto molto, adesso che c'è da scegliere i personaggi per fare questo film sono avuto molto volentieri e poi devo dire che il Cilento è un posto meraviglioso come tutta la campania e allora anche qua poi mi raccontava il proprietario che sono due anni che hanno rinnovato questa meravigliosa parte di questo Cilento, è incantevole, ma passiamo al film che è la cosa più importante, che siamo qua per quello il film è una storia bellissima che Antonella ha scritto e ha sceneggiato e dirige e devo dire che lei è una grande donna con delle grandi doti, delle grandi qualità, è un film che avrà un bellissimo ritorno perché la storia è veramente importante Il film inizierà l'ultima settimana di settembre e sarà girato proprio qui nel Cilento in questa terra meravigliosa con questi scenari, con questi colori che sono le cose che devono avere la priorità su tutto perché voglio ridare il lustro a questa bellissima regione che è stata tanto vituperata quindi io gli voglio rendere quello che veramente è